partiti in vantaggio si porta Harvey Bullock nei confronti di Danger in Sky con all'esterno Saxon segue Spy Story con in coda Gettito posizioni invariate con Harvey Bullock che prosegue in vantaggio tallonato da Danger in Sky segue Saxon quindi Spy Story con in coda sempre Gettito i cinque concorrenti in lunga fila indiana si portano ora lungo la curva di fondo che vede sempre Harvey Bullock al comando nei confronti di Danger in Sky avvicinato da Saxon quindi Spy Story e Gettito posizioni invariate anche all'ingresso in retta di arrivo con Harvey Bullock che prosegue in vantaggio tallonato da Danger in Sky che ha a ridosso Saxon quindi più indietro a centropista Spy Story con in coda a qualche lunghezza Gettito siamo ora a 400 dal palo Harvey Bullock subisce l'attacco di Saxon poi più a centropista Spy Story per linee interne da Danger in Sky che non progredisce poi Gettito più arretrato nel finale sta allungando Harvey Bullock ci prova Saxon i due sono in lotta all'interno Harvey Bullock all'esterno Saxon nel tratto conclusivo Harvey Bullock si impone nei confronti di Saxon mentre per il terzo posto sono avvicini Spy Story e Danger in Sky rivediamo le immagini con il numero 3 dello schieramento Harvey Bullock salvo Basile in sella a scuderia Gimax a bersaglio al posto d'onore il numero 2 Saxon quindi 3-2 il probabile e ufficioso arrivo della seconda corsa di Napoli